A pochi giorni dalla fine dell'anno è arrivato il record di movimenti di container per il terminal MCT di Gioia Tauro, sin da quando è stato ufficialmente aperto circa 28 anni fa. Nei giorni scorsi infatti sono stati toccati 3 milioni e 500 mila TEOS movimentati nel terminal, un dato che premia gli sforzi del gruppo MSC con gli investimenti effettuati da quando la TIL ha rilevato il porto container. Il precedente record era stato toccato nel 2008 quando si raggiunsero i 3 milioni e 449 mila TEOS. Poi la crisi economica mondiale cominciò a far sentire i suoi effetti anche nel terminal MCT, tanto che dall'anno successivo si fece ricorso alla cassa integrazione per oltre 10 anni. Infine nel 2018 vennero effettuati ben 400 licenziamenti ed altri 500 erano stati annunciati. La svolta arrivò nel marzo del 2019 quando il gruppo MSC prese il controllo del terminal, avviando una rivoluzione negli assetti dell'equipment, facendo arrivare sulle banchine nuove gru e carrelli, riassumendo i portuali licenziati e stabilizzando i volumi che oggi segnano il record mai raggiunto da MCT.